Ciao a tutti, sono XRKX, questo è il mio primo commentary, sono in compagnia di OneTel2 e volevamo dirvi in questo breve video che sto giocando a Team Fortress 2, che è Elsie Flee e voglio ringraziare Albi perché lui non mi conosce tecnicamente, però da lui nei suoi video ho visto Team Fortress e lo scaricato, e mi piace molto prima di iniziare a raccontarvi come si svolgeranno i commentari, volevo dirvi che questa partita ha sposto il carrello non mi ricordo come si chiama, dovevi portare il carrello alla fine, ma io in questa partita dovevo difenderlo insomma, che succede qui? Faccio una bella partita, considerando che questa è la mia seconda partita a Team Fortress e muoio qualche volta, però faccio abbastanza uccisioni come potete vedere in alto a destra quando ammazzo qualcuno però considerate la seconda partita più lag di Fraps e non è stato molto facile dico che mi chiamo già a 1097.8, quindi se vi vedete 1097.8 in alto a destra vedrete quando ammazzo ecco già stavo, mi uscito scritto, ecco già ne ho ammazzato uno e è uscito scritta anche la difesa dal punto di controllo ok, va bene, vi lascio vedere questo video, intanto io con Onetel 2 vi spieghiamo come si terranno i commentari ok, i commentari saranno principalmente di COD, di Death 4 Dead 2 e di Team Fortress, poi forse aggiungeremo qualche gioco e inoltre saranno con diverse persone, però penso sempre con Onetel 2 farò o da solo o con lui forse con qualcun altro se qualcuno mi chiede, però principalmente con lui perché è comunque un mio amico quindi giochiamo sempre insieme e niente, farà anche un commento di nostro canale che starà nei canali consigliati perché è bravo pure lui ai giochi, ok? più bravo di me e niente, mi volevo dirvi, volevo dirvi che farò sia tutorial che anche commentari quindi farò tutte e due le cose, però principalmente penso commentari per ora di Team Fortress, come vedete sto facendo anche due uccisioni ne ho già fatte tre in fila quindi insomma, quattro, ecco quattro ecco, vabbè e niente, perché mi ero messo praticamente alla porta avversaria con il candemozza appena nascevo e mi ammazzavo ora sono morto per la prima volta per la prima volta e niente il video sta per finire tra poco perché ho tagliato dura 22 minuti la partita l'ho tagliata perché per dire le cose più necessarie poi c'erano dei punti morti che non facevo niente e non, cioè, scappavo quindi non è che ok, niente ragazzi prima di che finisca il video volevo dirvi che che Orantel molte volte faremo due prospettive nel senso che se facciamo un gameplay insieme faremo la prospettiva su WAP quindi che lui vede la partita cioè che potete vedere nel suo canale con la sua grafica cioè quando vede lui e della migliorare quando vedo io quindi pure per dare più più potete vedere meglio, no? ok, qua ho difeso già il punto ok, volevo parlare di Team Fortress ora che ho finito, intanto tra poco finisce volevo dire che è un bel gioco e spero che vi spiegate tutti voi vabbè ragazzi è anche un video di play quindi non devo stare niente a giovarci sì, il 2 sì a me è soltanto che se spendete dei soldi potete avere un account premium ok ragazzi il video è finito ciao 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 ciao